Oggi il primo giorno delle prove di maturità in tutto il paese, a conclusione di un percorso nelle scuole superiori durato un quinquennio. In regione quest'ultimo atto coinvolge 2203 ragazzi per la provincia di Campobasso e 735 per quella di Isernia, su una popolazione complessiva studentesca di poco inferiore le 41.000 unità. Agli istituti tecnici delle due province il numero maggiore di candidati, 1017, seguono gli scientifici 670, i professionali 413, i licei linguistici delle scienze umane ed economico con 347 maturandi, licei classici 316 e a chiudere i 175 candidati provenienti dai licei artistici. La seconda prova scritta, fidata ai commissari interni, è prevista domani mattina e riguarda la materia specifica per ogni istituto, latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, diritto al liceo economico, topografia al geometra. Per equizione se ne riparerà dopo il fine settimana e precisamente lunedì 26 a chiudere gli esami, come sempre le maratone delle prove orali. Le commissioni assegneranno ad ogni studente un punteggio massimo di 15 punti. A prova per i temi scritti, per il colloquio orale invece i ragazzi potranno guadagnare un massimo di 30 punti. La lode infine ai candidati che raggiungeranno una valutazione di 100 punti. La lode infine ai candidati che raggiungeranno una valutazione di 100 punti.